Ma non abbiamo ancora comunicati ufficiali che ci dicano cosa, sappiamo solo che un'enorme nuvola sovrasta la città. Hai tre giorni per sfidarla, coccolarla, domarla. Partecipa alla grande prova Opel, chiama il numero 199 500 501 o entra nel sito. Finalmente un'idea invitante. Fino al 15 giugno, vieni a scoprire la grande promozione Berloni. Forno compreso nel prezzo della cucina e 30 mesi a tasso zero su tutto l'arredamento. Berloni, so che chiami casa. Oggi prendo il coupé. Oggi ha preso il coupé. Nuova classe a coupé. Ringo, tanta crema golosa tra un biscotto bianco e uno nero. A merenda, vince Ringo. Moltiplica per quattro la tua voglia di parlare. Ciao. Ciao. Nasce Team Maxi Ricarica. Con una ricarica da 30 euro, parli per 120. Spesso il mal di schiena impedisce anche piccoli gesti quotidiani. Il nuovo cerotto Voltadol, grazie alla sua azione antidolorifica e antinfiammatoria, ti rimette in movimento. È un medicinale che a controindicazioni può avere effetti indesiderali. Leggere il foglio illustrativo. Voltadol. Gioia di muoversi. È fresca, ma è anche morbida. È incredibile la sensazione di Nivea Soft sulla pelle. È leggera come la pioggia d'estate. Senti solo la morbidezza. Nivea Soft. Fresca come una delicata pioggia d'estate. Benvenuti a Caffè Gigli. Usiamo Caffè Ag da sempre. Oggi poi c'è Aga Roma Oro. 100% qualità radica. Buono. Chi conosce il caffè lo sa. Come Ag. C'è solo Ag. Per la pulizia del tuo bagno, ci sono qua io. Drago Pulisan, anticalcare e igienizzante. Ed oggi Drago Orange, anticalcare e sgrassante. Nuova Kia Cerato. Amica di famiglia. Oggi può essere tua a zero anticipo. 30 euro al mese, due anni di polizza incendi e furto gratuita. E in più, Kia Credit Card. I concessionari Kia ti aspettano. Il sabato sera è grande spettacolo su Rai 1. È pure il spirito, questo ragazzo! Ospite d'eccezione, Piotr Adamczyk. L'attore che ha interpretato Papa Vojtiwa. Mi chiamo Pippo Baudo. Eh, Pippo Baudo, tutti così dicono. Sabato italiano. Sabato alle 21 su Rai 1. Sabato è... Dammi la mano, Marta. Legate più di prima. Sarà molto dura per me. E anche per me. Lasciatela in pace. Nonostante quel processo. Su un momento è chiaro. Non ha solo una prova contro di me. Che diventa un gioco pericoloso. Un regalino da l'altro. Per chi sa la verità. Quello che mi interessa è denunciare una situazione gravissima che ho scoperto. Non voglio che ti metti nei guai. Papà, aiutami! È dentro Ferrara che dobbiamo cercare. Ferma questa polona. E per chi la nasconde. Non ho mai smesso di amarti. E tu? Un grande cast. Per una storia a tinte forti. Per noi un po' di silenzio.